La Giunta Comunale di Agrigento ha approvato un progetto per la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza, al fine di rendere più sicura la frazione balneare di San Leone. Il progetto di potenziamento delle misure di sicurezza che interessano il territorio comunale è stato possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal Programmo Operativo Complementare Legalità 2014-2020, dopo il protocollo sottoscritto fra il Comune e l'Ufficio territoriale del Governo. In particolare, l'intervento di 250.000 euro prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza del porticciolo turistico e del lungomare Falcone-Borsellino, costituito da nuove telecamere posizionate in punti strategici che consentiranno il monitoraggio di tutta l'area con un sistema ad alta definizione che consentirà la rilevazione delle targhe. Con questo provvedimento, afferma l'assessore alla Polizia Municipale di Agrigento, Francesco Picarella, vogliamo intensificare ed estendere le attività di controllo delle forze dell'ordine in un'area particolarmente complessa come il porticciolo turistico ed il lungomare Falcone-Borsellino, dove negli ultimi anni si è potuto rilevare un aumento della microcriminalità e lo spaccio di stupefacenti.